No, 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 non è affatto d'aiuto! Sì? Sei ancora sveglia? Ho cercato nella storia della mia famiglia se qualcuno avesse gestito la questione della regina in modo diverso, ma... Temo che dovrò lavorare sul mio sguardo di disapprovazione. Wow! Quella sì che è un'espressione severa! Beh, è bello che tu abbia dei ricordi della tua famiglia. Veramente non ti ricordi niente di quando eri piccola? Beh, no, non proprio, non prima che la mamma, sai... Che cos'è stato? Il libro dei ricordi di Sunny? Ehi! Credo di ricordare questo album! Risale alla mia infanzia! Oh! Mamma! Wow! Ma che succede? Percepisco una sensazione di calore, proprio come una cioccolata calda in una giornata d'inverno! Aspetta! Sunny! Coraggio, dai! Devi saltare, Sunny! Puoi farcela, piccola! Ti prendiamo noi! Oh, siamo così orgogliosi di te! Sei il nostro raggio di sole! Ok! Sunny è stata risucchiata dai suoi ricordi! Calvati, Zip, stai calma! Beh, non c'è molto che io possa fare, giusto? E fu allora che la magia scomparve dal mondo e tutti i poni finirono per allontanarsi gli uni dagli altri. Ma niente, è perso per sempre, Sunny! Deve esistere un modo per farla tornare! Papi! Wow! Ci sono dei disegni! E una mappa! Che cosa cercava la mamma di Sunny? Oh, la piccola Sunny era adorabile! Ok, concentrati! È importante! Vedrete che ben presto tutto si risolverà! Ciò che sto cercando potrebbe essere la chiave per riportare la magia a Equestria! Scusa, Sunny! Mi serve per la mia avventura! Ma ho un regalino speciale per te! Potresti tenerlo al sicuro fino al mio ritorno? Ricordati sempre di guardare dove cammini, Sunny! Vi voglio bene! Prendetevi cura di voi! Tornerò in me che non si dica! Oh no! È l'ultima pagina! Ciò che devi ricordare, Sunny, è che tua madre vennerà costantemente su di te dalle stelle! Oh, che succede ora? Sunny! Va tutto bene? Che cosa è successo? Ero... Ero dentro i miei ricordi! E c'era anche mio padre! Ho visto la mamma! L'ho vista anch'io! Com'è andata? Hai capito che cosa cercava? Dove era diretta? Io non lo so, ma... Zip, guarda! Ho il telescopio che mi aveva regalato! Assani con amore mamma! Credo... Credo di sapere cosa devo fare! Nei miei ricordi io mi trovavo proprio laggiù! Papà diceva che la mamma avrebbe sempre vegliato su di me! Ah! Non ho mai smesso di proteggermi! Stasera... La domanda è che la mamma avrebbe servito! Lo so, ma già ci sono? La domanda è una, la domanda è in questo modo! Spera le domanda è passato dall'anno! La domanda è in questo modo! O, è sicurale! La domanda è con una domanda! O, è sicuramente in questo modo! Ci sono stati Hebrews 10 ristzo! Lo so, ma già non sono stati! O, è sicuramente la domanda è che la domanda è accoglata... Grazie a tutti.